Ciao a tutti, qua ci troviamo alla stazione di Vigarano Pieve, vi faccio vedere. Per fortuna, guardate, mi trovo in mezzo alla ferrovia, ma per fortuna questo non è un binario funzionante. Questo è un binario dismesso, invece il binario funzionante, eccolo là. Oggi è domenica, non passano treni, quindi posso attraversare tutto quello che mi pare. Questo qua è il binario 1, vedete? Vi faccio vedere. Guardate, qua ci troviamo al binario 1, là c'è lo scambio per quel binario dismesso, quello là dove vedete quel respingente laggiù. Questo scambio qua andrebbe là, ma per fortuna adesso questo scambio è disattivato. Vedete? Lo scambio manuale, per fortuna. Potrebbe spostare anche questo scambio qua. Questo qua. Vedete? Così? È pesantissima. Meglio non toccare niente. Dicevo, questo qua, binario 1, questo qua. Poi laggiù fa di nuovo lo scambio. Fa lo scambio laggiù. Questo qua. Aspettate. Questo qua, il binario 2. Guardate laggiù il segnale luminoso. E' rosso, forse nel video non si vedrà, ma so che quello è il segnale luminoso rosso. E laggiù, vedete? Laggiù c'è il passaggio a livello con le FS64 di Vigarano-Pieve. Vedete? È passata anche una macchina. Faccio vedere anche qua. Vediamo la tipologia della stazione. È una tipologia vecchia. È vecchia, sta stazione qua. Vi faccio vedere una curiosità. Vedete quella campanella là dentro, dove ci va dentro il filo? Forse nel video non si vedrà la campanella. Quella lì è la campanella Leopolder, che serve ad avvisare l'arrivo del treno. Invece queste due campanelle...